315.000 euro per rimuovere l'amianto dall'ex cinema impero di Montevarchi. Prenderanno infatti avvio i lavori di bonifica della copertura, il lastre di cemento amianto della struttura. Il cantiere sarà installato il prossimo lunedì e i lavori dureranno quattro mesi. Un evento storico, ha detto il sindaco Silvia Chiasai Martini, perché solo la nostra amministrazione ha agito sull'immobile dopo decenni di incuria. Ci siamo rimboccati le maniche facendo uno sforzo notevole per mettere in sicurezza un edificio privato, stanziando a bilancio 315.000 euro a garanzia dell'incolumità dei cittadini. I lavori di bonifica prevedono nel dettaglio la rimozione delle lastre in cemento amianto, la sostituzione della struttura in legno della copertura ammalorata, la ricostruzione della muratura crollata e la realizzazione di una nuova copertura provvisoria con pannelli prefabbricati in lamiera. Nel gennaio dello scorso anno, la procura di Arezzo, dopo i sopralluoghi dei carabinieri forestali, vigili del fuoco, ASL e ARPAT, aveva disposto il sequestro preventivo d'urgenza dell'immobile, a seguito del quale erano stati contestati i reati di abbandono, di rifiuti pericolosi e omissioni di lavori in edificio che minaccia rovina.